ora con i bighe si prova il drone inoffensivo che dici e sarà inoffensivo questo appena appena no ma in video non ci si rende conto quanto è piccino aspetta ve lo faccio vedere meglio lo metto accanto alle chiavi guardate ragazzi accanto alle chiavi guarda le chiavi della Volkswagen sono più grosse questo è l'inoffensivo ma quanto è figo no è bellissimo ma poi c'è anche braccettini preghevole ma è veramente uno spettacolo e lucine anteriori guardate è figata cioè è fighissimo top